Eccoci insieme con il bianco e rosso TB Sport e con il nostro ospite Vito Petrozzelli. Come avevo pronunciato, siamo stati nei pressi di Barivecchia per capire l'umore dei baresi rispetto alla prospettiva di un ritorno di Antonio Cassano. Il sondaggio è di Cristina Ferrini. Vediamo. Che ne pensa di un possibile ritorno di Cassano al Bari? Può darsi anche sì. Che ne penso io? Che sarebbe meravigliosa, ma impossibile. Se Cassano dovesse tornare al Bari? Beh, grande, magico, ma non penso che potrebbe ritornare a Bari, perché ormai è diventata una persona così importante a livello calcistico internazionale. Però sicuramente il ritorno di Antonio Cassano scatenerebbe la fantasia di tutti i tifosi baresi, quindi benvenga una situazione così positiva. Magari. Comunque è un calciatore che ha esperienza, è forte, farebbe la fortuna del Bari. No, è troppo grande ormai, non è più un giocatore come una volta. Il Bari ha bisogno di giocatori giovani. Io penso che Cassano dovrebbe rimanere ancora a Parma, anche se ha dato le dimissioni. Perché? Perché secondo noi, parlo al plurale, perché è troppo fanatico. Fate di tutto per farlo venire. Andremo allo stadio in 80.000. Non possiamo dimenticare quello che Cassano ha lasciato come buon ricordo qui a Bari, quella famosissima partita con l'Inter, con quel gol fantastico che abbiamo ancora negli occhi, che ricordiamo con tanto piacere. Io vorrei solo il piede, un piede o il sinistro o il destro, delle sue capacità. In Serie A! Come viene? No, andiamo già in Serie A! Ebbè, c'è ovviamente chi spinge sulla Serie A. Vabbè, questo è uno spaccato di baresità rispetto ad Antonio Cassano. Abbiamo anche degli altri messaggi. Dario scrive a me, balza all'occhio, che come in passato non abbiamo la forza di prendere un bell'uomo senza il vincolo del contro riscatto. Un altro Dario dice, giusto in parte, comunque fantacalcio a proposito di Cassano, però in sei mesi tra incassi al borghiteghino e merchandising si farebbero un casino di soldi. Francesco scrive no, se Cassano viene a Bari lo stadio si riempie ogni partita, aumentano i ricavi dalla pubblicità, dallo stadio e dalle magliette. Bisogna fare un calcolo preciso su cosa potrebbe portare a Bari l'operazione Cassano, perché comunque è un'operazione che prescinde da un normale mercato. Qui è un'operazione di marketing, prima ancora che un'operazione tecnica, che però potrebbe essere decisiva. Io dico che Paparesta sicuramente lo vuole, lo vorrebbe, noi tifosi lo vorremmo. Quello che ribadisco io è che ritengo che lui non voglia e non possa venire. Io non riesco a immaginarmi Cassano vivere qui a Bari in città, con la moglie e il figlio, andare in giro. Non riesce a vederla questa cosa. Mi metto nei suoi panni e non mi ci vedo. Solo questo dico, poi magari. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto Enzo, ciao, sono Pasquale. Ciao Pasquale, ciao. Senti, non sbaglio, Enzo, Cassano l'ha sempre detto, l'ha sempre, diciamo, vorrebbe ritornare a Bari, anzi vorrebbe chiudere la carriera a Bari, quindi un colpo... Io non glielo mai sento dire, devo dire la verità questo, non ricordo una cosa del genere, però se tu ricordi... Penso che lui, chi lo conosce, l'ha sempre detto, non l'ha detto pubblicamente, però l'ha sempre detto, vorrebbe chiudere la carriera a Bari. Oggi chiederò ad alcuni suoi amici, qualche informatore buono ce l'ho su Cassano, vediamo. Quindi io faccio un appello, se ci stanno ascoltando oggi ad Antonio, ritorna qui nella tua città, per favore. Grazie, grazie, grazie. Beh, indubbiamente Cassano starebbe a Bari come Maradona è stato a Napoli, insomma, io immagino una presentazione già in uno stadio pieno, insomma, sarebbe una cosa sui generi, se no particolare. E con la fascia di Capitano, poi. E con la fascia di Capitano, e credo che il Bari, non mi ricordo, forse il Bari non ha la maglia numero 10, può essere che non abbia la maglia numero 10 in questo momento assegnata, non ricordo chi è il 10 del... No, è il Galano, Cristian Galano, 10? Sì, sì, Cristian Galano, 10. Beh, Galano potrebbe, no, cederla a Cassano, eh. Vabbè, comunque, fermo restando, sempre che resti Galano al Bari. Vabbè, sì, certo. Allora, qui intanto immagini di Cassano al Real Madrid. Con un look che è passato alla storia. Qui una delle tante occasioni perse, gettate al vento dal giocatore barese. Cassano con la maglia numero 19, però poi Madrid si meritò, io aggiungo davvero, si meritò l'etichetta di talentino, cioè un mezzo talento, non un talento ad altissimo livello, come probabilmente le qualità tecniche gli avrebbero consentito, no? Perché Cassano, chiaramente non si discute dal punto di vista tecnico, però il giocatore è molta altra roba che probabilmente manca in questo... è mancata nella carriera di Antonio Cassano. Però se ti vuoi fare quattro risate, io posso dire che vi sei stato il primo, praticamente, a raccontare Cassano ai... non ai baresi, anche ai giornali nazionali. Io scrivo per la Gazzetta dello Sport, il giorno dopo il gol di Cassano contro l'Inter, per Candido Canavò mi regalò la possibilità di scrivere due pagine su Cassano, perché io l'avevo seguito dai tempi del settore giovanile e devo dire che mi è accaduta forse la cosa più bella che mi sia mai capitata dopo quel lavoro, da quando faccio il giornalista, perché il giorno dopo mi chiamò la segreteria di Canavò e disse da parte del dettore complimenti per gli articoli su Cassano, perché nessuno più di me conosceva Cassano. Io l'avevo seguito da quando aveva 12-13 anni. In verità, proprio col tempo, il mio rapporto con Cassano è svanito nel nulla, come è capitato a volte a chi conosceva bene Cassano. Ha rotto i ponti con la città e con tutti quelli che... È svanito nel nulla. Mi dispiace, però, tant'è, però, allora, il giorno dopo il gol contro l'Inter, e parliamo di 15 anni fa, ecco un'intervista, una mia intervista personale ad Antonio Cassano. Antonio Cassano, ti sei mai chiesto in queste ore, ma guarda un po' cosa fa un gol nella vita. Infatti, da un giorno all'altro la vita di una persona cambia molto, perché tre, quattro giorni fa nessuno mi stava vicino. Ora tutti quanti, come ho detto all'altro giornalista, stanno tutti vicino. Beh, è sempre così, non succede soltanto ai calciatori. Su tutti i punti di vista, anche quando uno fa un gran lavoro. Se non lavora, è messo da parte. Senti, Antonio, questa grande pressione su di te, che effetto ti fa? Ti dà fastidio, ti fa piacere, o comunque la vivi, diciamo così, in modo disincantato? Beh, io sono abbastanza contento per tutta la gente che mi circonda. Però, delle volte, è un po' brutto vedere tanta gente, ma non tanta gente, tantissima gente, che sta sempre vicino a casa. Beh, anche se spengo il telefonino e il telefono di casa, gli tolgo la presa, lo stesso vengono direttamente a casa. Anche da lontano. I tuoi auguri ai tifosi del Bari? Come? I tuoi auguri ai tifosi del Bari? Eh, tanti auguri a tutti, specialmente a chi non sta tanto bene. È un felice anno nuovo. Grazie. Grazie. Grazie.